ciao a tutti bentornati sul mio canale sono francesca sono un assistente di volo base miami sono appena arrivata all'aeroporto di miami e sono in questo momento nel famosissimo princess parking che sapete benissimo se vi seguite da un po che cos'è ovvero ecco il parcheggio che da principessa perché me lo devo pagare quindi non è il parcheggio che vi viene dato dalla compagnia ma il parcheggio sta esattamente davanti al termine tra l'altro questa sera veramente super fortuna ho parcheggiato esattamente davanti all'uscita dove poi appunto devo devo entrare quindi perfetto quindi soldi ben spesi questa sera sapete non vengo praticamente mai in macchina in aeroporto se non quando è un famigerato odan ovvero un volo che è on duty all night quindi parto questa sera molto tardi tra l'altro il volo è in ritardo già di mezz'ora quindi vediamo un po ancora partiamo e faccio miami orlando che veramente un volo di 30 minuti neanche sto orlando circa 45 ore quindi ora che andiamo in albergo secondo me alla fine dormo tre ore se tutto va bene e poi torno poi a miami domani mattina col volo delle sei del mattino quindi torno a casa in tempo sperando di essere anche a casa in tempo per portare i bambini a scuola se no al marito toccherà portare i bambini con la mia super bici e non in macchina oggi tra l'altro siccome appunto la sosta sarà così breve secondo me io faccio quello che ho sempre detto ma no dai non lo farò mai una cosa del genere ovvero quando arriverò in albergo crede di mettermi nel letto direttamente con la divisa e di lavarmi giusto i denti e quello sarà il massimo che farò e poi dopo probabilmente quando mi sveglio direttamente appunto dai bagare i denti sì perché ci si lava i denti e però esco così direttamente tra l'altro è quello che faccio quando faccio i voli di lungoraggio comunque calcolate che facciamo il crew rest quindi un tot di ore si riescono a dormire sull'aereo quindi se dormo tre o tre ore sull'aereo non è che mi cambia mi metto il pigiama quindi facciamo finta di essere sull'aereo parlando di voli di lungoraggio apro una piccola parentesi visto che mi sentite sempre lamentarmi ogni volta che devo fare i voli di cortoraggio perché onestamente io non li amo particolarmente questa è una mia opinione personale quindi non è che il volo di lungoraggio è più bello per forza ci sono tanti assistenti di volo che il volo di lungoraggio non lo vogliono assolutamente fare per una lunga serie di motivi perché sicuramente è più stancante poi c'è il fuso orario poi si lavora molto di più cioè per darvi un'idea sul volo di oggi 30 minuti in economy non fanno neanche servizio mentre io sono il numero uno oggi quindi lavoro in first class io devo fare servizio però una roba veramente facilissima un drink e delle noccioline e roba del genere quindi niente niente di così difficile mentre sul volo intercontinentale ovviamente si lavora molto di più e io appunto nasco come assistente di volo da lungoraggio perché la primissima compagnia per cui ho lavorato che era la volare airlines mi faceva fare solo lungoraggio e quello mi è entrato dentro nel dna e quindi non riesco a farlo uscire no? e quindi una volta che faccio i voli brevi mi viene la morte proprio così detta proprio così male solo che purtroppo l'aeroporto di miami non so la mia compagnia mi sa che ci odia e quindi d'estate tolgono tantissimi voli intercontinentali tantissimi voli di lungoraggio e quindi rimane veramente poca roba e vi dico sempre che è tutto basato secondo la signority quindi l'anzianità aziendale e la mia anzianità d'inverno riesce a prendere voli di lungoraggio d'estate assolutamente no quindi ormai dovreste saperlo che a partire da luglio ho deciso di andare base Charlotte per 3-4 mesi adesso vediamo un po' quanti mesi rimarro là perché da lì invece c'è il mio bellissimo volo a Charlotte Roma quindi così sono bella contenta quindi dovrò salutare l'aeroporto di miami dovrò fare commuting quindi dovrò pendolare so già che me ne pentirò però vedendo i miei turni degli ultimi tre mesi qua all'aeroporto di miami mi viene veramente la depressione quindi alla fine ho deciso dai è stata una buona scelta se avete visto il video che ho postato ieri perché siamo passati dal non postare mai video visto che ho avuto la polmonite sono stata praticamente morta per quasi un mese adesso devo lavorare quasi tutti i giorni quindi vi porto con me a Orlando e se avete visto il video di ieri saprete anche che sono atterrata che puzzavo di vomito e di escrementi ovviamente non mi hai quindi tranquilli ho lavato la divisa visto che fa caldo l'ho anche fatto asciugare fuori sul balcone a prendere un po di sole a togliere qualche germe così di ieri e quindi sono pulita oggi profumo in un puzzo quindi dai venite con me andiamo a Orlando veloce veloce e poi domani mattina torniamo a casa ho appena attraversato la strada lo dico sempre state attenti che vi investono perché è morto più di un pasteggero veramente attraversando che la gente arriva a 200 all'ora mi stavano investendo peccato che non stiamo facendo video se no facevamo l'incidente in diretta stavo salendo a bordo ma ci sono ancora quelli delle pulizie quindi mi tolgo dalle scatole perché non ci abbiamo a vicenda quando loro devono lavorare e noi anche dobbiamo lavorare insomma quindi aspetto al momento siamo in ritardo non so bene neanche di quanto credo di tanto anzi credo che forse in questo momento dovevamo già essere in volo e invece non siamo in volo sono le ore 22.49 mi sembra che dovevamo partire alle 22.45 scusate non so bene ancora dovevamo partire quando sono uscita di casa già era un po' in ritardo sta aereo e adesso l'hanno ritardato ancora di più e nel frattempo è sparito un pilota dalla lista dell'equipaggio quindi non sappiamo bene cosa è successo ovviamente abbiamo bisogno di due piloti quindi vediamo un po' che ne sarà di noi quindi salita a bordo quelli delle pulizie sono scesi finalmente catering non è ancora stato fatto quindi questa è tutta roba sporca quindi bisogna aspettare nel frattempo sembra che ci hanno trovato i piloti quindi dovremmo essere a posto al momento siamo a bordo solo 3 stenti di volo quindi ne manca uno che sicuramente ha visto che la partenza è stata ritardata fino a mezzanotte ciò significa che volendo ti puoi presentare al gate tipo 36 minuti prima del decollo perché a 35 minuti prima del decollo su questo tipo di aereo mobile cominciamo a imbarcare quindi non siamo tenuti a salire a bordo prima ovviamente diciamolo io lo faccio sempre perché c'è sempre qualcosa da fare ed ecco qui che il catering se n'è andato io devo spingere la maniglia giù essere sicura che sia ben chiusa così stessa cosa quando poi chiudono la porta d'ingresso ci mancano i piloti però dai vi faccio vedere la cabina di pilotaggio vuota piloti per favore arrivate oppure no perché a questo punto se cancelliamo andiamo a casa va bene uguale dunque a quanto pare i piloti ce li abbiamo ma li hanno chiamati da casa e hanno 3 ore per arrivare però quelli di terra hanno deciso di imbarcare l'aereo nonostante noi dicessimo scusatemi cioè imbarchiamo un aereo e poi teniamo i passeggeri 3 ore sull'aereo tra l'altro dopo un'ora e mezza comunque bisogna fare un servizio diciamo di emergenza tra virgolette perché non puoi tenere i passeggeri a bordo senza farli scendere così insomma speriamo che arrivino prima di 3 ore se no la cosa non è molto bella piccolo aggiornamento è arrivato il comandante ci manca ancora il primo ufficiale quindi intanto abbiamo deciso di imbarcare speriamo bene questo tipo di volo è o veramente facilissimo perché il tempo di volo è 35 minuti quindi va velocissimo così senza problemi oppure è sempre un casino perché tra l'altro noi potendo stare in servizio tutta la notte questo volo potrebbe essere ritardato di tantissimo e comunque noi siamo ancora legali e possiamo tranquillamente volare l'andata e ritorno sono le ore 2 e 20 di notte sono finalmente atterrata a Orlando a questo punto siccome alle 5 noi comunque dobbiamo ripresentarci in aeroporto non ha neanche senso andare in albergo e abbiamo chiesto se potevamo stare sull'aereo così magari dormivamo un attimo sull'aereo ci hanno detto picche tra l'altro perché questo aereo che abbiamo portato non è poi il nostro aereo di domani mattina di tra qualche ora non è domani ormai è sempre oggi intanto vedo qua c'è gente che dorme quindi mi potrei appoggiare anche un attimo sulla panca e niente quindi sarà una bella roba che appunto ovviamente sempre quando non faccio il pisolino succedono queste cose praticamente quindi sono svegliata stamattina alle 7 e a questo punto fino a domani mattina alle 8 sarò sveglia tra l'altro non vi ho detto alla fine cos'è successo perché appunto vi ho detto che a un certo punto avevamo il comandante e stavamo aspettando il primo ufficiale che non si è presentato quindi poi sono andata in giro per l'aereo siccome avevamo tanti piloti, tanti assistenti di volo, commuters quindi quelli che fanno pendolamento, che andavano a casa sono andata a chiedere a tutti i piloti scusi a me non è che per caso tu puoi volare questo aereo e alla fine ci è andata bene che uno poteva volare perché è un pilota di questo tipo di aeromobile Boeing 737 quindi finalmente siamo riusciti a partire e arrivare a destinazione adesso l'unico problema è che essendo così appunto in ritardo siamo qua in piedi i colleghi si sono appoggiati lì già al gate del ritorno ma lì si congelava quindi ho detto scusate io adesso mi sposto un attimo e quindi ho trovato quest'area qua dove tra l'altro c'è pure la panca quindi sopra la panca la capra canta, campa, no, vabbè scusate sono un attimo stanca ovviamente i passeggeri normali si sdraiano sulla panca quindi sopra la panca fanno episodino io con la divisa non è molto una cosa da fare io volendo potrei anche però dai niente quindi stiamo a svegli tutta la notte che bellezza sono le 4 e 06 del mattino nel frattempo andrebbe anche tutto bene non fosse che si congelava qua dentro per fortuna c'è una sciarpetta nella borsa perché tra l'altro vedete non ho neanche la valigia quindi mi ero portata giusto il pigiama e insomma una roba così quindi non ho neanche niente da mettermi insomma se poi succede qualcosa e rimaniamo bloccati per fortuna sono riuscita a prendere dell'acqua calda e adesso c'è la mia bustina del tè in tasca infatti mi faccio un bel tè verde perché anche se ho appunto ho chiesto ho detto scusate quando aprite aprono le 4 e mezzo vi ho fatto pena mi dato un po' di acqua calda che sto morendo congelata così mi sveglio ancora un attimo e adesso comunque l'aeroporto comincia a cioè no a riempirsi perché comunque c'è prestissimo però comincia ad arrivare la gente si vede che magari ci sono voli che partono ancora prima del mio quindi i passeggeri arrivano quindi notte insonne quindi questo volo è una fregatura colossale perché praticamente si lavora non so 11-12 ore e di solito però appunto volo facile facile 30 minuti andare 30 minuti a tornare e nel frattempo poi si va in albergo e si dorme però quando succede una roba del genere non è un gran che infatti dicevamo con gli altri colleghi diciamo questo tipo di volo è o facile facile o molto difficile difficile e noi questa sera ci è andato difficile difficile salita a bordo questo galli fa veramente schifo perché è stato lasciato uno schifo dal collega o dalla collega che ha fatto il volo in arrivo questa stazione non fa catering quindi io ieri qualche ora fa ho lasciato il galli pulito con i carrelli a posto con i carrelli sigillati invece chi ha fatto questo galli non lo so sono un po' sotto shock e quindi non so neanche se riuscirò a fare il servizio che è appunto al volo però mi sa che non lo faccio neanche perché non ho niente praticamente qua davanti è tutto un casino quindi così è stato lasciato il galli vi faccio notare che i bicchieri questi sono sporchi questi sono puliti per cortesia gli assistenti di volo che viene dopo di te di solito questo lo metti dietro e davanti gli metti quelli puliti poi sono rimaste solo due bottiglie d'acqua non si capisce come mai qua dovevano esserci i miei snack invece hanno messo un sacchetto di monnezza e non ci sono più di snack quindi gli assistenti sono rubati questo invece è il loro carrello sporco i forni mi hanno lasciati vuoti mi hanno lasciato dei regali che tra l'altro adesso li devo tirare fuori io perché sennò dopo cioè quelli del catering di Miami pensano che l'ho fatto io sto casino quindi grazie ai colleghi giretto fino in fondo a controllare che sia tutto disarmato e che non ci siano nessuno sono atterrata a Miami finalmente non so se Miami mi sta facendo dei dispetti per dire ah te ne vai base Charlotte al mese prossimo allora adesso facciamo in modo di fare tutti i voli brutti e quindi niente cioè sta cosa che non ho dormito tutta la notte adesso comincio ad accusare qualche colpo di stanchezza e quindi adesso c'ho praticamente la giornata rovinata perché devo per forza dormire mentre contavo già solo se dormivo 4 ore o stanotte che sono pochissime però diciamo che per me possono anche bastare per poi arrivare a fine giornata e poi magari andare a letto presto invece così ovviamente non dormendo da più di 24 ore mi tocca dormire detto questo dai ce l'ho fatta almeno sono a casa quindi su questo non posso lamentarmi quindi vi ringrazio di aver volato con me anche questa notte non quest'oggi mi raccomando iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram e Facebook e ci vediamo al prossimo volo ciao a tutti ciao a tutti